buonasera a tutti buonasera eccoci qua io e carlo per fare un breve video riguardo alla diretta che terremo martedì prossimo che sarà il 13 febbraio dove andremo a approfondire chi è naturopata e di cosa si occupa in questo caso di cosa ci occupiamo noi prevalentemente faremo prima un discorso un po generale sulla naturopatia abbiamo notato che diverse persone non hanno ben chiaro cosa faccia il naturopata e quindi chiariamo un po questo arcano e in più andremo a spiegarvi noi in particolare nelle consulenze di cosa ci occupiamo quindi martedì 13 febbraio alle 20 e 45 20 e 50 ci vedremo solito con la nostra serata su zoom dove appunto parleremo di questo argomento pensiamo sia molto utile chiarire questa cosa appunto e carlo vuoi dire qualcosa e sì perché è molto importante mettere a fuoco cosa è la naturopatia cosa fa e cosa facciamo noi cosa offriamo diciamo con le attraverso le consulenze perché naturopata non è l'operatore diciamo che utilizza solamente metodi naturali diciamo ma c'è tutto un approccio particolare che è a 360 gradi sulla persona quindi corpo mente spirito e l'analisi infatti durante la consulenza dura diverso tempo perché bisogna entrare nella specificità della persona perché su questo pianeta siamo quasi ormai otto miliardi ma non ce ne sono due persone che si possono offrire sempre la stessa cosa ognuno di noi e una sua specificità la naturopatia e con le consulenze entriamo direttamente nella particolarità della persona per andare a proporre comunque un percorso personalizzato che è unico comunque che non tiene conto solamente di rimendi naturali ma sono una serie di tecniche una serie di cose che vada ad arricchire diciamo quello che noi poi offriamo alle persone quindi è bene conoscere nella specificità e nelle particolarità quello che il naturopata fa e quindi ecco per concludere vi aspettiamo martedì alle 20 e 45 sempre su zoom per la nostra consulita serata grazie a tutti e per il link comunque sempre 351 582 88 19 e ci vediamo quella sera va bene ciao a prestissimo a tutti ciao